Dopo il passaggio di un fronte freddo nella notte tra venerdì e sabato vi sarà un miglioramento che prenderà piede specialmente nella giornata di domenica. Per sabato prevediamo nella notte del primo mattino ancora precipitazioni specialmente a est con quota neve intorno ai 300 metri quindi è possibile anche sul carso triestino dove soffierà bora moderata. Il tempo andrà migliorando nel corso della giornata e in serata avremo cielo prevalentemente sereno poco nuvoroso ma farà più freddo con temperature che scenderanno anche localmente sotto lo zero sulla pianura avvicinandosi a questa quota sulla costa in montagna. Farà decisamente freddo già dalle prime ore della sera. La giornata di domenica vedrà cielo in genere sereno poco nuvoroso sarà possibile qualche velatura in quota specialmente tra Alpi e Prealpi e alta pianura più sereno invece il cielo verso la costa. Farà freddo al mattino con temperature decisamente basse gelate estese in montagna valori anche intorno ai meno 10 nel fondo valle e anche in pianura temperature diffusamente sotto zero sulla costa temperature appena positive o al limite intorno allo zero. Le massime saranno intorno ai 6-7 gradi quindi una giornata relativamente fresca. Il vento sarà caratterizzato da un po' di bora moderata del primo mattino in calo poi nel corso della giornata. Tempo variabile lunedì e martedì ma ancora piuttosto freddo specialmente lunedì mattina gelate diffuse intense in montagna e in pianura. Della serenatoria metodo dell'ARPA Arturo Puccino vi saluta.